Ma che ci facciamo qui con tutta questa roba? Ce lo spassiamo, ci godiamo la vita. Frank, e tu che vuoi? Il tuo aiuto! Senti, sono in pensione, ok? Sì, ma non uccidi nessuno da mesi! È un fatto positivo! Stanno arrivando, io me lo sento! 96 ore fa qualcuno ha detto che noi due abbiamo preso parte a un'operazione chiamata Nottefonte. In piena guerra fredda, un ordigno da un megatone fu portato a Mosca pezzo per pezzo e poi riassemblato. Lo scienziato era Edward Bailey. Ora è rinchiuso in un manicomio criminale. Frank Moses, mio caro amico! Quando sei vecchio? Sei stato rinchiuso qui per 32 anni. Andiamo, Frank, mi prendi in giro? Forza, fatti sotto! Se non mi aiuti, 11 milioni di persone perderanno la vita. Non ci potresti dire dov'è la bomba? Rimentati io. Dio ci salvi! E nei sei mi ha dato l'incarico di ucciderti? Sei il numero uno dei ricercati dell'Interpol. Tu che gli hai detto? È importante godersi la vita finché ci si riesce. E arriva anche a una tua vecchia conoscenza. È il miglior killer a pagamento del mondo. Ci serve aiuto. Ciao, Frank. Quella chi è? Un guaio. Come va la vita? Giusto. Frank, come va la vita? Ma sei matto, baci le mie ragazze. Quello che succede nel Cremlino resta nel Cremlino. Lei hai dato una pistola. Lei non sa neanche a che serve. Non so esattamente a che serve. No! Sarà come ai vecchi tempi. Quanto la odio, Wendy. Sei un uomo morto, Moses. Non ancora. Non ti ho mai sentito nominare. Ai tuoi tempi non ero ancora nato. Ora ho mai sentito nominare. Salviamo il mondo. La zdravia! La zdravia! Vive...